Alle primarie io voterò per Massimo Zedda, in primo luogo perché credo che sia ora di fare spazio a una nuova generazione di amministratori. E poi io conosco Massimo da tanti anni e conosco la sua capacità di lavoro. Qualunque incarico gli sia stato affidato, l'ha sempre portato a termine nel migliore dei modi. E conosco l'intelligenza politica e la sua saggezza che gli consentirà di attorniarsi di una squadra di persone che amano la città e portano competenze.